ciao a tutti sono il papà di Federica io sono Federica e oggi impareremo a patinare benissimo quali esercizi ci fai vedere per imparare a patinare? il primo la ferma il secondo ti ricordi? si e il terzo? il terzo è patinare proviamo allora spingiamo il piedino un po' più avanti patiniamo brava da quanto tempo pattini Fede? da ieri pomeriggio? da ieri pomeriggio fai vedere spingi i piedi vai veloce veloce